Non si comincia dalla fine, cominciamo dall'inizio. Prima cerchiamo, io sono una persona che sono 20 mesi che sto aspettando il mio turno, che non arriva mai. Per chi come Bruno Filotei, tra le macerie di Pescara del Tronto, ha perso sei parenti, tra cui la madre e il fratello, al momento, rispetto al concorso di idee per la memoria, la priorità è un'altra. Quella di recuperare un oggetto, una fotografia, un ricordo, sotto i crolli. A quasi due anni di distanza, nulla è stato spostato nella parte centrale del paese. Il problema sarebbe legato alla difficoltà di raggiungere l'area della frana, dove lo scivolamento della collina e le scosse hanno livellato sullo stesso piano tetti e muri. Eman deve fare una rimozione intelligente delle macerie, chiedere anche alle persone che abitavano lì se c'era un muretto, se c'era una fontanella, quello che si può cercare di disegnare in poche parole, e cercare di dare chiaramente le giuste soddisfazioni ai proprietari, come me e come altre persone che stanno lì. Dopodiché, una volta aver fatto una strada, aver fatto un abbozzo di paese, chiedere aiuto agli architetti, agli ingegneri e dire, ok, adesso mi date un giudizio, mi date una vostra opinione, un vostro parere, mi fate una vostra idea di progetto alla memoria, allora questo lo accetto, ma così non c'è senso. È una collina di sasi, quindi per me credo che sia impossibile fare un discorso di studiare come potrebbe venire un domani se uno non sa quello che trova sotto, anche per legge poi tutto sommato, lo Stato deve garantire il recupero, diciamo, dei tuoi beni, e sono la bellezza di 20 mesi che noi siamo diventati il fanalino di coda. Noi abbiamo portato via le macerie dal punto di vista sulla strada provinciale, c'è da fare un ponte, l'esercito si è reso disponibile per fare il ponte, speriamo ovviamente che lo faccia più presto, però il discorso principale è che a Pescara bisogna vedere se si ricostruisce. Le macerie sarà difficile portarle via, però le porteremo via, perché giustamente ci sarà il tempo di portarle via, c'è l'esercito che ha detto che le porterà via. C'è bisogno che portiamo via le macerie come Arquada, Arquada adesso è capoluogo e sta tolta del tutto, Pescara non è stata toccata per nulla la parte bassa, speriamo che ci dicano qualcosa i tecnici.